Buongiorno a tutti e grazie per l'invito che per noi rappresenta sempre un momento importante per vedere i risultati di quelli che sono i nostri sforzi che ormai da anni facciamo per andare a finanziare il meglio di quelle che sono le proposte di questo paese in Melbourne perché io sono Mariano Meda Luciani, qualcuno di voi conoscerà il mio nome perché in qualche maniera ha avuto a che fare come la ricerca finalizzata soprattutto di questi anni, mi occupo appunto dei grandi della ricerca del Ministero della Salute e mi occupo, quindi sono nella direzione generale della ricerca e innovazione in sanità che adesso è stata, ha cambiato di nome da poco ma ha cambiato di nome ma per proseguire su una filosofia che è ormai consolidata da qualche anno. La cosa che ci tengo di più a dire è che io rappresento quella che strappa e porta via un 1% del Fondo Sanitario Nazionale perché questo è dedicato alla ricerca sanitaria di questo paese e ne ha la responsabilità di usarlo al meglio e abbiamo la sua unica filosofia, quello 1% che noi prendiamo dall'assistenza ai nostri cittadini non lo prendiamo per utilizzarlo al meglio per migliorare l'assistenza dei nostri cittadini per qualificarla sempre di più e per rendere la più omogenea sul suo territorio. Quindi questo è molto in linea con quello che voi avete fatto, avete partecipato a questo lavoro perché è la valutazione della qualità delle strutture ospedaliere perché parliamo di strutture però immagino che al di là delle strutture ci siano i servizi e quelli che ci interessano a noi e sono la qualità della cura che viene erogata e anche le modalità con cui si avviene erogata, è importante e questo vi rientra a ricordarvi qual è il nostro principio non siamo più il ministero della sanità noi ma siamo il ministero della salute e la salute si compone di tanti aspetti un aspetto sicuramente è quello della certezza della cura però un altro aspetto è sicuramente il come questa cura la eroghiamo e quanto siamo vicino ai pazienti e ai cittadini quindi questo per me era una premessa importante per dirvi che qual è lo spirito con cui noi continuiamo a lavorare come abbiamo anche modificato la nostra struttura questa strada io ve la volevo proporre soltanto per dirvi che questa è la filosofia con cui stiamo lavorando trasparenza, comunicazione e valutazione per noi sono tre momenti fondamentali perché nulla può essere utile al sistema se non è oggettivamente valutato se non è oggettivamente conosciuto se non è trasparente a tutti e se non viene comunicato perché soltanto dalla comunicazione e dalla... quindi non bisogna avere paura di essere misurati bisogna avere il coraggio di essere sempre e costantemente in evoluzione quando adesso il direttore Pevere ha detto che siamo in cammolcimento in modifica in realtà io dico che siamo in crescita come sempre ogni modifica deve servire a crescere nel sistema questo io vorrei partire da questo presupposto per dirvi che la qualità della ricerca sanitaria di questo paese di cui noi siamo, diciamo, i sostenitori economici a dar poi diversamente a quanto si può immaginare o pensare delle grandi soddisfazioni perché come vedete queste sono semplicemente due gradatori che vi voglio far vedere per dirvi come si posiziona l'Italia a livello mondiale nella ricerca sanitaria e biomedica perché la ricerca biomedica non ha nulla da invidiare rispetto a altri tipi di ricerca siamo sempre all'avanguardia al di là di tutto quello che noi produciamo anche delle persone che noi produciamo nel senso che abbiamo una formazione molto importante che nel mondo si posiziona sempre bene noi abbiamo tantissime collaborazioni adesso con gli italiani sono all'estero e io dico che non sono cervelli in fuga ma sono cervelli che assolutamente sono una nostra risorsa sono la nostra vendita nel mondo e come vedete siamo anche in ottima posizione anche sulle citazioni quindi significa che oltre che il numero delle indicazioni che sono molto alte nel nostro paese noi non pubblichiamo soltanto veniamo citati quindi significa che siamo importanti per far crescere altre situazioni quindi questo vi deve dare uno sprono agli esistere però evidentemente questo è stato possibile proprio perché siamo l'un per cento del mondo internazionale proprio perché comunque crediamo nella sfida della crescita del sistema e quindi dirottare delle risorse che peratturnano in termini di qualità al cittadino sono state risorse come vedete abbastanza costanti nel tempo perché come vedete la linea poi da arancione i conti dedicati alla ricerca biometrica di questo paese è una costante e io dico che per fare delle cose buone bisogna avere una costanza sia nei metodi che nei finanziamenti in maniera da poter programmare in maniera corretta speriamo di questo riusciamo a mantenerlo anche in questi momenti che sono non facili nell'economia del paese ma siccome la ricerca e l'avanzare della qualità di natura del cittadino io sono convinta, siamo convinti tutti spero convinto e penso che voi soprattutto che siete gli operatori del sistema ancora di più potrà portare anche economia perché più si qualifica la prestazione meno ci costa la prestatura questo è per dare il panorama dove voi non siete soli siete ovviamente all'interno di un sistema molto importante che noi riconosciamo e soprattutto sollecitiamo e stiamo avendo anche una nuova collaborazione con quella che è la vostra agenzia perché la rete della ricerca più america è fatta da 21 regioni nella loro singolarità ma sicuramente è importante il vostro lavoro di sintesi che potete fare in termini di collettore di tutte queste regioni quindi questo lavoro che voi avete fatto e che oggi noi ascolterò con molto piacere per noi è importante per vedere come il sistema ha il suo insieme e non nella sua specificità reagisce poi la rete è fatta troppo di 45 eccellenze nel paese che abbiamo individuato che abbiamo selezionato che sono state sostenute nella ricerca non stiamo parlando di 45 strutture di eccellenza sanitaria perché magari ce ne sono molte che fanno eccellenza altrettanto ma nella ricerca ne abbiamo 45 sono catalogati gli istituti specifici che stanno nelle regioni che fanno parte della rete del sistema sanitario nazionale ma che sono qualificati come tali che vengono sostenute in maniera internazionale questo sono i risanitari e l'agenzia per i servizi sanitarie regionali per noi è un punto di riferimento non è un partner casuale e poi abbiamo 10 istituti di valutazione di ZAS che impattano per un anno per tanto la rete delle eccellenze diciamo degli istituti sono molto diversificati e come vedete sono quelli che poi rappresentano una delle nostre misurazioni una delle misurazioni della qualità della ricerca sanitaria che è quella delle pubblicazioni che come vedete in 10 anni sono proprio tutte pubblicate perché misurarsi anche con questi termini diventa sempre più importante tutto questo per dirvi per dirvi che noi contiamo molto e questa questa ricerca che io adesso metterò ad ascoltare con piacere ritorna veramente ad abbracciare questa filosofia la ricerca corrente dell'Arginas questo lo dico al presidente nella nostra nuova riorganizzazione rientra tra quelle competenze insieme alle altre ricerche correnti che noi destiniamo agli altri destinatari soluzionali questo è un momento importante perché significherà fare programmazione insieme significa condividere dei percorsi insieme e questo ci dovrà aiutare soltanto in una visione nel miglioramento dei percorsi italiani quindi la vostra ritornazione sarà importante e quindi quella che loro percepiranno si sarà utile per migliorarci sempre allora buon lavoro a tutti quanti grazie a tutti la professoressa Luciani tra l'altro la professoressa in questa fase svolge un ruolo importantissimo di racconto perché il ministero come noto sta attraversando un momento di riorganizzazione quindi le direzioni generali sono cambiate le direzioni generali sappiamo quanto è importante anche quando alcuni dirigenti di grande esperienza come la dottoressa Luciani siano fondamentali anche per consentire la continuità di alcuni progetti desidero innanzitutto leggervi una nota che mi ha fatto arrivare il ministro perché il ministro mi ha chiamato ieri dicendomi mi raccomando non dimentichi di portare i miei saluti e naturalmente il ministro ci manca i due altri saranno due ore a fare non si è fidata evidentemente e questa mattina mi ha fatto arrivare una come con i suoi nomi naturalmente ma poi mi ha mandato anche un messaggio chiedendovi se avevo ricevuto tutto a testimoniare di quanto il ministro che manda i saluti che non sono saluti formali sono saluti diretti e per quello che ci ha scritto e cito un qualche passo a riguardo ritengo utile che si riferisce al progetto evidenziare come sia oramai giunto il momento di trasferire nella pratica clinica i concetti di miglioramento della qualità che da anni vengono dibattiti ma che spesso trovano difficoltà ad essere inseriti in quale elemento fondante dell'erogazione e delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza non la leggo tutta cito ancora qualche passo elogia moltissimo naturalmente l'attività svolta e svolta in partnership con il ministero della salute con la cittadinanza attiva e con le regioni e le associazioni di volontariato e completa la nota dicendo sono certa che l'evento nel corso del quale verranno presentati i risultati della direvazione rappresenterà un'occasione utile per discutere e condividere i possibili sviluppi futuri di un sistema di monitoraggio valutazione dell'organizzazione tema a me molto caro quindi ringrazio moltissimo il ministro è tutto registrato e quindi sarebbe in grado anche di documentare se tutto si è verificato secondo quello che lei desiderava desidero ringraziare anche moltissimo tutti coloro che hanno partecipato e che non posso citare personalmente l'agenzia di valutazione civica di cittadinanza attiva grazie Antonio Gaudioso grazie Francesca Moccia grazie a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo progetto ringrazio moltissimo i miei colleghi il dottor Caracci e non soltanto perché ha accanto a lui un gruppo di persone molto valide che hanno partecipato attivamente non solo di questo progetto ma anche in altri ce ne saranno ancora la dottoressa Carzalica e il dottor Lamanna ringrazio moltissimo le regioni 287 strutture ospedaliere che volontariamente partecipano ad un progetto di questo genere io penso che sia già questo un risultato di grande rilevanza grazie alle regioni in particolare dell'Unione Romagna che è qui presente oggi ma anche il Veneto perché il Veneto so che ha contribuito come numero diciamo le strutture che hanno avvenuto in maniera abbastanza sostanziosa ringrazio molto anche la regione Lazio che ha voluto oggi qui che fosse presente consigliere Petrangolini ringrazio per la partecipazione e anche naturalmente per un collegamento che fuori luogo ricordare con tutte le azioni poche anche precedentemente bene adesso che ho salutato cerchiamo di parlare insieme e di inquadrare il tema ascolterò molto volentieri il lavoro svolto in realtà il Ministro faceva bene a ricordare che il tema è molto caro sia a lei sia alle regioni e anche a tutti i presenti perché il tema dell'umanizzazione è un tema centrale nell'assistenza del nostro Paese pensate che solo per sinteticamente ricordare che qualcuno di noi lo può fare assieme a me 30 anni fa circa per la verità anche di più stante la verità oltre 30 anni fa quando si viveva un'esperienza ospedaliera si viveva un'esperienza ospedaliera che veniva vissuta in un luogo cosiddetto speciale per tutti coloro che vi partecipavano e questo luogo l'ospedale 30 anni fa era considerato un luogo speciale perché era la sede dove si svolgevano delle esperienze speciali che erano una misto tra la capacità dei medici di agire tecnicamente sulla malattia e una grandissima capacità di ascolto da parte delle persone che vivevano dentro quella struttura ed era un qualche cosa che non soddisfa la malattia si diceva all'epoca è però dovremmo migliorare le condizioni di indagine diagnostiche di cura i profili tecnico specialistici perché noi siamo stati molto bravi molto capaci noi abbiamo incrementato in questi ultimi decenni la nostra capacità di cura a tal punto da venire il punto di riferimento in Europa e non soltanto come tra i paesi che consentono di vivere più a noi adesso ci impegneremo oltre che a dare più anni alla vita magari a dare più vita agli anni però comunque siamo diventati un paese che è in grado di rispondere dal punto di vista della ricerca e la dottoressa prima ci ricordava qual è l'impegno e quale sarà l'impegno anche futuro in parte dei cittadini ringraziamo anticipatamente di questo rapporto fiduciario e coordinato inizio della salute ma sostanzialmente quello che non abbiamo saputo fare è stato accompagnare questa grandissima evoluzione del modello di specializzazione di questo modello tecnico-specialistico ad una parallelo modello evoluto di comunicazione con le persone dico comunicazione cito uno degli aspetti che è oggetto di questa importantissima ricerca questo ha determinato la crescita degli ultimi decenni di professionalità che probabilmente hanno raggiunto livelli elevatissimi dal punto di vista tecnico-specialistico ma per quanto concedere quel rapporto di cui vi accennate di 30 anni non si viene traccia se non in alcuni settori che hanno sentito questo bisogno quindi il fatto di oggi essere qui a discutere insieme dei risultati di una idade che è così importante della prima a livello nazionale e soprattutto discutere di come evidentemente far ritornare il sistema a raggiungere un equilibrio stabile tra l'elevata capacità tecnico-specialistica che abbiamo raggiunto ed anche altrettanto elevata capacità di ascoltare la persona sofferenza in un momento dedicato nella sua vita tutto questo genera un interesse anche da parte del sistema tanto è vero che il fatto per la salute come noto prevede un capitolo dedicato comunizzazione per la prima volta della strada voluto possemente dal ministro e anche dalla regione perché si è capito il difetto di equilibrio che abbiamo determinato per il tempo che ci tengo a dire è stato sanato in più delle volte grazie all'attività di associazione di volontariato di associazione di cittadinanza attiva ha svolto un ruolo di grandissima rilevanza quindi il futuro è che questo progetto e questo modello desideriamo portarlo in Europa il modello italiano il modello di umanizzazione che noi con gran fatica stiamo mettendo su perché io conosco anche le difficoltà che all'interno di alcune strutture ospedaliere sono generate dal fatto stesso di prendere un po' di tempo che non sia quello che notoriamente deve essere minuto per minuto collegato strettamente al protocollo di un basta noi abbiamo l'intenzione di proseguire la giornata odierta ci consente di guardare affidativo anche da questo punto di vista e da voglia l'unice che a genere si è impegnata in questo tipo di attività la partnership con il ministero è scontata la partnership con cittadinanza privata sarà sempre più solida perché il ruolo che l'agenzia nazionale per i servizi sanitari è chiamata a scorgere anche dal fatto dell'unità della salute e cioè un ruolo di accompagnamento di monitoraggio anche dei contenuti del fatto non può che essere svolto accanto ai cittadini l'agenzia nazionale per i servizi sanitari il ministero della salute non sono degli enti burocraticamente avvissi dal sistema l'agenzia sarà accanto ai bisogni dei cittadini io vi cito uno slogan e anzi colgo l'occasione lo dico ad Antonio e a tutti voi io nella mia attività professionale ho sempre considerato più che la persona al centro ho sempre voluto dire altro e ho sempre detto la persona prima di tutto desidero propormi di utilizzare questo slogan per tutte le campagne che ci vedranno protagonisti assieme e in cui si discuterà dei bisogni più intimi della persona in momenti di particolare debolezza come può essere quello della mattina quindi vi propongo non dico per una stata di mano ma insomma di utilizzare questo slogan la persona prima di tutto perché ha un senso e ve lo racconto la persona prima di tutto non vuol dire attenzione soltanto alla persona che in quel momento è oggetto di quella sofferenza ma vuol dire anche attenzione a tutto quel mondo che ha intorno gli operatori i medici infermieri personale anche questa attenzione va rivolta verso quindi questo atteggiamento sanzionatorio che assume il solito un documento capitaceo o una norma noi desideriamo abbandonare noi vogliamo coinvolgere le persone le desideriamo coinvolgere attraverso un monitoraggio costante la Genas ha un ruolo anche previsto dall'articolo 28 al comma 2 di coordinamento e di monitoraggio di tutte le attività premiste nel patto per la salute tra queste attività essendoci un articolo specifico che riguarda l'umanizzazione che prevede tra l'altro la necessità delle regioni programmi di un programma scusate la di un programma annuale cioè noi andremo a valutare e monitorare assieme quanto le regioni intenderanno investire su questo tema quindi non è più un fatto collegato ad una giornata di studio ma sarà un elemento che spero potrà comportare un cambiamento culturale tale da realizzare quell'equilibrio di cui parlavo all'inizio tra intensa elevata di capacità e capacità tecnico-specialistica anzi dei modi dove più intensa questa capacità tecnico-specialistica è proprio lì che dobbiamo agire di più gli istituti di ricopre pura carattere scientifico che sono caratterizzati del nostro modello lo ricordava anche la professa prima come diciamo strutture dove la capacità di ricerca la capacità tecnica è ai massimi livelli di espressione anche le tecnologie è proprio lì che bisogna essere più presenti da questo punto di vista perché è proprio lì che si può annidare inconsapevolmente un'attenzione molto più mirata all'esito clinico e quindi alla persona oggetto diciamo di una ricerca e di un successo perapetico trascurando diciamo in buona parte quel bisogno che ogni persona che quando entra in un ospedale e poco prima aveva rinossato una ciazza una gravata ed era qualcuno della sua famiglia e della sua società in quel momento entra e non è possibile che possa essere considerato un caso clinico quindi la persona prima di tutto se siete d'accordo io la considererei lo considererei il nostro slogan per tutte le attività future che riguarderanno l'agenzia nazionale sulla umanizzazione e spero il ministero e naturalmente cittadinanza attiva ringrazio moltissimo io sarò presente per buona parte dei lavori e ringrazio ancora tutti coloro che non ho avuto voto di ringraziare personalmente perché il grande impegno che c'è stato dietro questo progetto rilevantissimo ed importantissimo grazie e lascio la parola adesso al professor di Stanislaw per la conduzione tecnica positiva dei lavori grazie grazie a tutti grazie a tutti